Hanno chiesto. Salve Sonia Riglasi se vuoi essere aggiornato iscriviti e attiva la campanella. Se vuoi conoscere il test dell'Isola dei Famosi clicca in alto a destra. In quale clinica ho fatturito? Ho spiegato che alla 34esima settimana di gestazione mi sono trasferita in Svizzera, dove poi ho fatturito mio figlio Cristian. Perché sono dimagrita tanto? Ho sempre detto di seguire una dieta bilanciata e un allenamento fisico costante per mantenersi in forma. In diverse interviste ho dichiarato che il mio regime alimentare si basa sulla cosiddetta dieta solentina, che prende il nome dal dottor Nicola Solentino che la segue. Cosa mi sono rifatta? Di recente ho raccontato via social di essermi sottoposta al trattamento di nicotigmentazione labbra, e che ho fatto allo scopo di avere per molti mesi una bocca leggermente colorata, a effetto di stitruccia. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni, è stato un piacere averti qui, torna a trovarci e ti aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.